ciao a tutti io sono marco marconanni e da due anni frequento musicalmente sono orgoglioso di essere qua di aver conosciuto questa realtà una realtà che sono venuto a conoscere tramite una mia collega un bel giorno mi disse dai marco andiamo qua fanno ballo qua cantano qua recitano ero giovedì e fu uno dei giorni più belli della mia vita mi sono divertito tantissimo a tal punto da dire vabbè proseguiamo iscriviamoci eccetera eccetera poi verrà quel che verrà a distanza di due anni posso già dire di aver colto tantissimo a giugno dell'anno scorso abbiamo fatto il primo spettacolo è stato l'esordio per me e il batticuore veramente alle stelle io ho già fatto qualche gara di ballo io mi venivo da latino americano ma devo dire che l'emozione che si prova sul palco proprio l'attimo in cui si aprono quei tendoni giganteschi e ti presenti davanti al pubblico è qualcosa di indescrivibile alice non so se riuscirò a trovare le parole giuste ma credimi tu mi piaci mi piaci tantissimo così come sei buffa scherzosa allegra pimpante mi piace il modo con cui ti prendi cura del tuo lavoro sogna che un giorno potrai cura potrei prenderti cura anche di me se magari non possiamo dire di conoscerci abbastanza ti prego di darmi un'altra possibilità lo vuoi ciao musicalmente ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao